E ora si torna a casa. Stop it. Ma aspettate un attimo, non avete ancora visto niente? Che cazzo di voce un po' stata? Riproviamo. Riproviamo. Basta. 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 Sì, 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 sì. E' f***ing crazy! Ehi gente, avete capito, oggi ci andiamo verso Manley e andiamo a visitare questa spiazza. Vediamo un cazzo, 7 dollari. E' bene. E' bene. E' bene. E' bene. E' bene. Sì, so che non è stato un bellissimo. E' bene. E' bene. E' bene. E' bene. E' bene. C'è quello che diceva bene. E' bene. E' bene, è bene. E' bene. 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allora tu pensi solo quei tipi di pesci gli altri che devi liberare. non so se avete visto mi chiede a pescare pesce e qui dopo dovete subitare la strada e la gara a subitare questa spesa è fantastica andiamo? Sì come on Elisa ci ha lasciato perché era proprio stanca e Grazie a tutti Grazie E ora si riparte Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti